Centinaia di proteste nel Pavese, ma non solo, per bollette del gas esorbitanti, per Enel Energia si tratta solo di conguagli e anticipi, per Feder Consumatori ci sono errori di calcolo. Signora, che bolletta le è arrivate al mese di agosto? Dunque mi è arrivata una bolletta esorbitante, circa 800 euro, considerato il periodo non aveva ragione di essere. Maxi bollette del gas in pieno agosto, casi come quello della signora Maria di Pinarolo Po nel Pavese, sono purtroppo tantissimi. Qualcuno parla di bollette pazze, ma in realtà si tratta di conguagli e anticipi sui consumi. Feder Consumatori, che ha ricevuto solo nel Pavese centinaia di proteste, parla di operazione di cassa dell'Enel, cui si sono aggiunti gravissimi errori di calcolo. Noi abbiamo riscontrato delle somme algebriche completamente sbagliate. Fatturano un tot di consumi che però non risultano dai conteggi riportati in bolletta. Telefonando la prima volta, praticamente mi hanno detto che avrei dovuto pagare sicuramente il mio debito in banca, dopodiché mi avrebbero restituito l'eventuale differenza che probabilmente non era dovuta loro. Già mi è sorto il sospetto che ci fosse stato qualcosa di non corretto. E Nell'Energia ammette gli errori, le differenze verranno restituite direttamente sul conto di domiciliazione. Sul meccanismo di calcolo di conguagli anticipi, invece, sostiene che il metodo è stato fissato dall'autority sull'energia. Ma è proprio l'autority, replica Feder Consumatori, a parlare di mancanza di trasparenza. Al di là di tutto, al di là degli errori materiali, è un problema di trasparenza nelle bollette. Questo è quello che ha chiesto l'autority, ha chiesto trasparenza nelle bollette e di rispondere alle sollecitazioni delle associazioni.